Se vi servono crediti passate dal link in descrizione e con il codice MENZMR avrete subito un 5% di sconto. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io MENZ, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, siamo ritornati qui con la carriera allenatore con l'Inter. Vi parlo adesso perché se ricordate nello scorso episodio ho interrotto l'episodio appunto prima della partita di quarti di finale di Coppa Italia, se non ricordo male, contro la Roma. Ho dovuto tagliare l'episodio in due parti perché avevo già registrato due ore e non volevo l'episodio troppo lungo. Quindi ragazzi io adesso vi lascio la partita con la Roma e poi proseguiremo l'episodio con il calciomercato e le altre partite del campionato. Quindi ragazzi ci vediamo fra pochissimo dove saluterò alcuni di voi e proseguiremo appunto con il calciomercato e il campionato. Ok ragazzi andiamoci a giocare questa partita contro la Roma, quarti di finale di Coppa Italia, piove, 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 piove. Noi siamo veramente distrutti dalla vita ragazzi, siamo tutti stanchissimi, però giocano i titolarissimi assolutamente. Andiamoci a giocare questa partita. Esordio per Robert Lewandowski ragazzi, non vedo l'ora di provarlo sinceramente, non sono per niente pentito di aver acquistato lui al posto di Luis Suarez. Proprio perché comunque abbiamo visto con Paco Alcacer l'altra volta, abbiamo uno stile di gioco dove comunque la palla e mezzo con gli esterni la mettiamo spesso. Quindi Lewandowski può essere davvero utile. Dobbiamo riprenderci assolutamente dalla sconfitta contro la Juventus. Sconfitta che è arrivata in un modo brutto purtroppo perché non eravamo concentrati ragazzi, diciamolo chiaramente. Non ero concentrato per quello che stava succedendo con i cardi ecco, quindi adesso sono più tranquillo perché è arrivato Lewandowski. Griezmann, se ne può andare subito Griezmann. Prova il tiro da fuori Griezmann! Diego Alves, bella parata, ricordiamocelo, Diego Alves, davvero un gran portiere. Che palla di tie le mans per Griezmann. Griezmann, Griezmann, davanti a Diego Alves, palo! Poi la palla resta lì, Ghiomber riesce a respingerla in calcio d'angolo. Se una Florenzzi che vede il nuovo movimento di Lewandowski, il tiro di Lewandowski, Diego Alves. Finisce qui il primo tempo, signori, 0-0. Bella partita, tosta. Dall'altro lato Juventus-Lanciano, madonna ragazzi, ma come si fa? Rientra sul destro. C'è dall'altro lato Cialanoglu! Ancora Diego Alves! E ancora Cialanoglu! E ancora Diego Alves. Quindi Diego Alves è un fenomeno. Lewandowski, bella palla per Kondogbia. C'è ancora in mezzo Lewandowski! Lewandowski! Al cinquantaseiesimo! È proprio lui che porta in vantaggio l'Inter. Ma che triangolo ben chiuso con Kondogbia. Ed eccolo qua il nostro fenomeno. Eccolo qua. Ci abbiamo fatto a sbloccare sta partita. Grande qui Leva, che vede Kondogbia inserirsi. Poi Kondogbia la rimette in mezzo, chiude il triangolo. E la caccia nell'angolo Lewandowski con il destrone. Attenzione Strootman! Bravo Kondo! Bravo Kondogbia! Attenzione! Punizione! Punizione per la Roma! Guardate un po'. Guardate un po' come va a finire. Eccolo lì! Nainggolan! Il tiro di Nainggolan! Musacchio! Mancano due minuti alla fine della partita. Attenzione alla Roma! Con Strootman! Strootman! Il tiro di Strootman! E c'è il pareggio. Al novantesimo. E mo'? Come si fa? Finissi qui. Ci sono i supplementari, no? Come faccio? Quello c'ho tutti spaccati praticamente. Attenzione a Riccardo Rodriguez. Troppo spazio per lui. Dunbia! Madonna Nardi che parata ha fatto! Se ne va Lewandowski. Se ne può andare Lewandowski! Il tiro di Lewandowski! No raga, come l'ha parata Diego Alves. De Lufeo. La mette in mezzo dove c'è. Lewandowski che ho spremuto il tasto per fare il pallonetto. Ho sbagliato io. Dunbia! Nardi! 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 Ancora Nardi! Oh, ancora Nardi! Ma come fa? Ma come si fa? Come si fa raga? Stiamo soffrendo tantissimo. Ci sta mettendo veramente in grande difficoltà. Tre minuti alla fine anche del secondo tempo supplementare. Poi ci saranno i rigori. Finisci qui. Si va ai calci di rigore. Ci giochiamo la... La semifinale del Coppa Italia. Lewandowski qui anche se me lo sbaglio non mi interessa. Vai Lewandowski e non sbaglia. Cos'erano quei capelli di Rodriguez? Rodriguez? Va Rodriguez? Nardi! No! Dai Nardi! Dai! Ma Florenzi! L'ha sbagliato? Sì. Traversa. La tira a centrale. Sì, ma Cristo! 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 Telemans lo fa. Va Paco Alcasser. Lo fa anche lui. Ma se non ne parliamo uno raga è dura. Va Kevin Strotman. Si! Traversa! Traversa di Strotman. De Luffeu. Il tiro di De Luffeu intuisce Diego Alves. Vai Maicon. Lex. C'è Paul Nardi però. Vai Maicon. Il tiro! La parata di Nardi! La parata di Nardi signori. Ai rigori. Ce la facciamo. Ah non era De Luffeu quello di prima. È questo De Luffeu. Vai Gerard! E andiamo in semifinale signori. Ai rigori siamo imbattibili. Imbattibili. Mamma mia. Che rischi però ragazzi che ci stiamo prendendo. Stiamo prendendo dei rischi pazzeschi. Allora ragazzi come al solito vi ringrazio tantissimo e saluto Lorenzo Zaccaro, Ruter Zappa TV, Luca Bottis, Michele Aurelio, Davide Bandera, Craig 27, Francesco Ruffo, Luca Provenzani e Vincenzo Morano. Allora ragazzi spero comunque che la parata con la Roma vi sia piaciuta. È stata una parata veramente incredibile e pazzesca quella che è successo. Noi ai calci di rigori siamo imbattibili. Non c'è niente da fare. E ragazzi ci eravamo lasciati appunto con il calciomercato. Ho già fatto delle offerte e la mia idea ragazzi è quella di acquistare un altro centrocampista centrale che magari possa fare anche il COC e ho già fatto appunto delle offerte. Non comprerò più un terzino destro perché voglio ottenere i soldi appunto per un centrocampista e utilizzerò Montoya. Dato che è comunque giovane un 79 non l'ho mai usato quindi mi sembra forse anche arrivato il momento di utilizzarlo. È arrivato Tej e se in qualche modo forse ci libereremo di Marez. Attenzione perché ci potrebbe essere un colpo di scena perché in tantissimi mi avete consigliato il ritorno di Matteo Kovacic. E chi lo sa magari ci proviamo. Ora ci sono già molti uffici. Allora abbiamo Witzel. Parlando dalla base di 36 milioni per Witzel. Anche se in realtà Witzel è in scadenza di contratto. Quindi amori miei. 28 anni 82 offro 10 milioni. Ma proverei anche con Marez. Magari accettano. E andrei anche... Ok, ok. Qui parliamo già di un giocatore un po' più... Non dico pronto di Witzel perché secondo me Witzel ha più esperienza. Ma Oziakup può fare qualsiasi ruolo del centrocampo ragazzi. Cioè è incredibile. Non ho una base su cui partire. Quindi io offrerei Marez più 5 milioni. Oziakup 38 milioni. Eh, sono tanti ragazzi. Adesso siamo arrivati alla partita con la Lazio. Allora. Offerta troppo bassa per Gese Rodriguez. Non sono interessati a Marez. Però se io alzo comunque la posta potrebbero accettare. Ho fatto delle offerte anche per dei portieri. Poi Siviglia. Non sono interessati a Jedvai. E questo... Questa non è una bella cosa. Quindi io proverai con Marez. Proverai con 19 milioni più Marez per Krikovic. Che è un animale ragazzi. Un animale veramente. Dovremmo iniziare a portare avanti delle trattative. Quindi 17 milioni più lungo per Kovacic. Ma proviamo anche 15 milioni più lungo per Kovacic. Andiamo con Granit Csaka. Probabilmente mi chiederanno una cifra impossibile. In realtà no. Attenzione. In realtà no. Quindi io direi 14 milioni anche qui. Più Jedvai. Ci sarebbe anche Fernandinho ragazzi. Fernandinho non è male ragazzi. C'era 4 milioni. Raga 4 milioni per Fernandinho. E per il momento quelle offerte sono a posto ragazzi. C'è una partita con la Lazio da giocare però. Quindi questa ce la andiamo a giocare. Dato che quella con la Juventus l'abbiamo persa. Andiamo a fare la formazione. Io direi Lewandowski. Punta centrale ovviamente. Filippe Anderson. Cialanoglu. Griezmann. Condogbia e Tielemans. Come detto in centrocampo. Lo siamo messi veramente come il porco. E poi direi che siamo a posto così ragazzi. Direi che la formazione è già fatta. Per fortuna non piove. L'Inter Lazio. Partita comunque importante. Perché Inter Lazio ha sempre una bella partita. Una partita tosta comunque. Non dobbiamo sentirci superiori. Perché abbiamo comprato Lewandowski. Anche perché io sono un po' ancora amareggiato per i card. Sono un po' amareggiato per come si è andato i card. Avrei preferito una separazione migliore. O addirittura una non separazione. Comunque adesso bisogna stare concentrati. E portarci a casa questi tre punti. Che non sono facili. Sempre sul pezzo ragazzi. Forza Inter. Attenzione perché la palla arriva subito a Lewandowski. Cialanoglu. Calcio d'angolo. Dove c'è Filippe Anderson. Ci sono due ex. Attenzione a Tielemans che ha un buon tiro da fuori. La palla arriva a Cialanoglu. C'è larghissimo Lewandowski che colpisce di testa signori. Capite perché ho preso Lewandowski. Capite perché ho preso Lewandowski. Perché di testa le prende quasi tutte lui signori. 1-0 Inter. Dopo 5 minuti. Robert Lewandowski porta in vantaggio i neroazzurri. Con dog via. Prova a lanciare Filippe Anderson. Ce la fa. Attenzione perché Filippe Anderson è più veloce di basta. Prova il tiro Filippe Anderson. Un buon mancino incrociato. Alta sopra la traversa. Attenzione a Yannick Bolasi che può andare. C'è Musacchio che prova a fermarlo. Se ne va Yannick Bolasi. Il tiro di Bolasi sul primo palo Nardi. Ottimo gol di Bolasi. Sappiamo le sue caratteristiche. L'abbiamo avuto per metà anno. Nella prima stagione. Purtroppo qui Musacchio non è riuscito a riprenderlo. Avevo paura di far farlo da rigore qua. Se è andato Bolasi. Qui Nardi mi dispiace ma non può prendere gol in quel modo. Atenzione a Giorgiovic che è andato. Giorgiovic. Il tiro. Nardi. Finisce qui il primo tempo. Uno pari. È una partita direi abbastanza bella. Occasioni da una parte e dall'altra. No raga no. Ha dato rigore per quella cosa di... Tra l'altro a parte che il fallo è su un altro giocatore. Vabbè. Ma qui c'è stato proprio uno scontro di gioco. E io non ho spinto niente. Come che Andreeva contro Nardi. Ma io vado di qua. Oh il pallonetto sbagliato da Andreeva ragazzi. Che... Che imbarazzo devo dire veramente. Mamma mia Bolasi non riusciamo a prenderlo. Ancora Yannick Bolasi. Il tiro di Bolasi. Stavolta Nardi para sul suo palo. Chiude bene. Attenzione a Radu. Minchia Radu. Non mi può mettere in difficoltà Radu. Nardi. Oh. Oh che parata ha fatto. Che parata ha fatto Nardino. Attenzione a Cataldi. Ancora Nardi. Ragazzi stiamo rischiando tantissimo. Finisci qua la partita ragazzi. 1-1. Bella partita comunque. Guardiamo un attimo la classifica. Abbiamo 4 punti dalla Lassi. Quindi era una sfida veramente molto impegnativa. Andiamo con gli allenamenti. Speriamo che salga qualcuno. E sale Tielemans. Perfetto. Tielemans 79. Krikoviak non può andare. Non va Krikoviak. Porca miseria. Siamo interessati. Ma vogliono di più per Kovacic. Quindi io do il massimo. Che ho. 21 milioni più lungo per Kovacic. Allora proviamo per Fernandinho. 5 milioni più Mares. Dovrebbe essere. Io simulerei un attimo la partita con. La Spezia. Vediamo un po' come va. Gol di Lewandowski. Direi che si sta ambientando abbastanza bene. Così. Espulso Lyuk Show. Rigor di Lewandowski. 2-0. Direi che finisce qui. Intanto Florenzi 3-0. Incredibile. Noto come è entrato in Aki Williams per Varane. Non so cos'è successo. 21 milioni. È l'ultima offerta che posso fare a Oziacup. Siamo interessati al giocatore che ci ha offerto. Meriteniamo la somma di denaro insufficiente. Io ragazzo mio. Non so cos'altro dirti. Così io ti darei 31 milioni. Quelli che vuoi. Sì vabbè però. Cioè adesso Fernandino 18 milioni. Così all'improvviso. Allora proviamo con Jace. Raga Jace è l'ultimo veramente che. Che vuoi acquistare. Dato che mi chiedono 23 milioni. Io provo. Io provo 20 con Riyad Mares. L'alternativa sembra fattibile. Bah. Proviamo 20 milioni. Più Yedvai per Wilshere. Oh 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 oh. Attenzione perché Beziktas ha accettato Oziacup. E se arriva Oziacup. Io sono contento. Giocatore chiave prima squadra. Titolare. E' dato Arnold ha accettato. Mi rimarrebbero 6 milioni. Ciccio bello aspetti. Kovacic purtroppo non sono riuscito a prenderlo. Tutti gli altri vogliono sempre troppo di più. Offerta per il trasferimento per Paul Nardi. Attenzione perché Wilshere ha accettato 20 milioni più Riyad Mares. Troppo di stipendio ragazzi. Non riesco a prenderlo già Wilshere. Non riesco a prenderlo perché gli ho offerto... Quanto gli ho offerto? 20 milioni. 20 milioni più Mares. No rega non ce la... Non posso prendere Wilshere. A sto punto io direi che andiamo su Oziacup ragazzi. Io prendo Oziacup. Perché come posso vedere su internet. Ha un potenziale di 86. Comunque mezza stagione. Però partiva da 9 e ero di 80. Accetto Oziacup perché purtroppo Wilshere non riesco a comprare. Perché ha offerto 20 milioni più Mares. Non mi sono tenuto un milioncino in più per potergli offrire il contratto. Ho 21 milioni. Gli offro 20 più Mares. Riesco a offrire il contratto solo se vado oltre meno i 20 milioni. Che è la cifra che gli ho offerto. Quindi compro Oziacup. Direi che il nostro mercato finisce qui. Andiamo a vederlo subito. Mi serviva uno molto tecnico in mezzo al campo. In più sinceramente può fare anche... Oh 82 rega. Cioè 82 Oziacup. Può fare intesa con Cialanog. Guardate le statistiche di Oziacup. Oh è una bestia ragazzi. È una bestia. Guardate controllo palla. Tutti sopra l'80. Finalizzazione non molto. E quindi magari potremmo lavorare anche su quello. Però questi turchi ragazzi ci sanno fare. Guardate C-C, C-O-C, C-D-C. Ho comprato veramente il centrocampo fatto a giocatore. Sì vabbè ma il gioco comunque è veramente una merda. Perché arrivano offerte adesso che se io mi piglio questi milioni. Dopo non posso riutilizzarli perché il mercato finisce. Cioè veramente è un gioco fatto malissimo da questo punto di vista. Calcio mercato chiuso. Secondo me è un buon calcio mercato. Perché è arrivato un buon rinforzo a sinistra. Ovvero Teyes. Un buon centrocampista come Oziakup. Ma soprattutto è arrivato Lewandowski. Oziakup potrebbe essere il giocatore che ci fa cambiare ritmo lì a centrocampo. La Lazio ha vinto e quindi c'è arrivata praticamente dietro al culo. E dobbiamo assolutamente cercare di dargli il distacco. Andiamo a giocarci questa partita contro le Empoli. Sono curiosissimo di vedere come gioca Oziakup. Perché comunque l'Inter lo segue anche nella realtà. Vedo comunque dai suoi dati che è un giocatore che merita mi sembra. Perché comunque un centrocampista così completo se ne trovano pochi. E quindi ancora piena fiducia Nardi. Anche se parlare di piena fiducia mi sembra un attimo eccessivo. Perché comunque ho provato ad acquistare altri portieri. Ma non è stato possibile. Perché o portiere o centrocampista. Gran pallone recuperato da Teyes. Può andare. Sì adesso c'è Lewandowski. Può andare Robert davanti a Pelagotti. Mamma mia ragazzi Pelagotti. Ma chi è Pelagotti? Mette anche delle belle palle in mezzo. Ma Nardi. Ma vaffanculo Varane. Così stavo facendo col tondo. Per spazzare. Cioè qui Nardi ha fatto un miracolo. E poi Varane si è addormentato. Quindi passa in vantaggio l'Empoli. Qui miracolo di Nardi. Varane l'ha fatta rimbalzare. L'ha fatta sfilare. L'ha fatto di tutto. Errore clamoroso del difensore. Quindi 1-0. Noi non stiamo giocando assolutamente bene. C'è Noglu. C'è Osiacup. Osiacup praticamente ha il primo pallone toccato. La butta dentro. 1-0 pari. Gran pareggio dell'Inter. Grande azione qui. Lewandowski. Fa esattamente quello per cui è stato preso. Tenere il pallone. Far salire la squadra. Qui fortunato c'è la Noglu. Gli arriva il pallone. Mette un gran pallone filtrante. Però per Osiacup. Che di prima intenzione. Di destro. Sassa. Un tiro incredibile. Che Pelagotti non può parare. Comunque 1-1. Allo scadere del primo tempo. Pareggio importante. Può andare adesso Depay ragazzi. Attenzione perché il contropiede. Sta avendo una forma. Lewandowski. C'ha la Noglu. Ottima palla per Memphis Depay. Attenzione. Depay davanti a Pelagotti. Memphis Depay. 2-1. Questa squadra rispecchia esattamente la mia idea ragazzi. Gran contropiede. Grande tecnica. C'ha la Noglu in mezzo. Fa del macello. Poi Depay. Così. Con un destro. La piazza benissimo. C'era anche Ozzykup. In buona posizione. Poteva esserci la doppietta personale all'esordio. Ma comunque va bene così. Da yes. Bella palla per Depay. Ci sono in mezzo tutti. Ma c'è anche Lewandowski. No ragazzi. Eh io lo sapevo di aver comprato un fenomeno. Mi sembra di aver visto un anticipo proprio su Costa. Invece qui ottimo cross di Depay. Mi sono sbagliato. E la palla proprio sulla testa di Lewandowski. Proprio prima dell'uscita del polacco. Perché entra Paco Alcacerra. Finisce qui la partita. 3-1 ragazzi. Ottima vittoria. Avevamo andati sotto addirittura 1-0. Dopo ci siamo. Siamo svegliati. Voglio fare uno sperimento. Oddio. Un esperimento non lo chiamerei tanto esperimento. Perché comunque abbiamo già provato. A utilizzare questa formazione. Voglio provare a usare il 4-4-2. A rombo diciamo. Quel centrocampo a rombo. Con però gli esterni. Eccolo qua. E in questo caso. Coppia d'attacco. Lewandowski-Griesman. Cosa volete che vi dica? Attenzione a Griezman. Che ruba ancora una pallola. Attenzione a Griezman. 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 Davanti al portiere. Il tiro di Griezman. Un cecchino. Un cecchino. 1-0 Inter. Antoine Griezman. Che recupera un gran pallone. Erroraccio qui. Del difensore centrale. Perché con Griezman non puoi permetterti certe sviste. Attenzione all'Inter. Felipe Anderson. Cialanoglu. Prova ad andarsene in qualche modo. Cialanoglu. La mette in mezzo dove c'è Felipe Anderson. La palla arriva a Griezman. No. L'ha sbagliato. Non ci credo. Stavo già per risultare. Lewandowski. Griezman. Si fa vedere Oseacup. Il tiro di Oseacup. Che sfiora il palo. Ma vedo che Oseacup è veramente morto ragazzi. È stanchissimo. Griezman. C'è molto spazio per Oseacup. Bella palla per Lewandowski. Che rientra sul destro. Poi cialanoglu. Arriva Florenzi. Il tiro centrale. Ma qui avevamo fatto una fittissima rete di passaggi. E stava riuscendo tutto. Lewandowski. C'è in mezzo. C'è l'anoglu. C'è proprio il sinistro. Carnesis. Che parata. E poi Griezman non è riuscito nel tapin vincente. Condogbia. C'è Lewandowski. Prova a mettersela sul destro. Il tiro di Lewandowski. Fuori di poco. Griezman. Che bella palla per Condogbia. Ha dato fuori. Credevo avesse fischiato il calcio di rigore. Mi sarebbe piaciuto veramente. Un bel calcio di rigore. Che perché Condogbia aveva fatto un gesto tecnico incredibile. Minaki Williams. Balla palla per Paco Alcasser. Balla un Paco Alcasser di destro. Carnesis. La palla resta lì. Calcio d'angolo. E finisce qui. 1-0 Inter. Vittoria importante. Andiamo a vedere un attimo la classifica. Come è messa. La Juventus ha perso. E la Lazio ha pareggiato. Questa è stata una vittoria importantissima. 6 punti. Dalla Lazio. Seconda. E 11. Dalla Juventus. Terza. Nel prossimo episodio direi Torino. Andata di ottavi di Champions League. Carpi Verona. E poi ci andiamo su dietro. Anche perché la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Manca ancora tanto alla fine del campionato ragazzi. Sono molto eccitato per la partita contro il Paris Saint Germain ragazzi. Va bene ragazzi. Direi che questo episodio si può concludere qui. Spero vi sia piaciuto. Segnatevi Ozzy a Cup ragazzi. Anche per il futuro. Perché comunque è un ottimo centrocampista. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da mezzo. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.